In questa edizione del DNews, la DIA di Agrigento ha sequestrato e confiscato beni per 6,5 milioni di euro riconducibili a esponenti di Cosa Nostra Agrigentina. Sequestrate anche partecipazioni azionarie nella società Eurospin Sicilia S.p.A., che opera nel settore della grande distribuzione alimentare con sede a Catania. La DIA di Catania sequestra una società di videopoker riconducibile a Gaetano Liuzzo Scopro per un valore complessivo di circa 500 mila euro. La Guardia di Finanza sequestra oltre 3.200 articoli contraffatti, denunciato un commerciante cinese. Non sanno dove andare 20 famiglie costrette a lasciare l'immobile di via Furneri a Catania dopo lo sfratto inviato dal comune. Chiedono un incontro urgente con il sindaco Bianco. Successo della raccolta farmaci a Catania per Gaza, 200 kg di forniture mediche inviate in Palestina. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. La Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento ha sequestrato e confiscato beni per 6,5 milioni di euro, riconducibili a esponenti di Cosa Nostra Agrigentina. I provvedimenti hanno colpito i beni, riconducibili al boss mafioso Giuseppe Falsone, 44 anni, arrestato il 25 giugno del 2010 a Marsiglia dopo 10 anni di latitanza e a Giuseppe Capizzi, 45 anni, ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di Ribera. Capizzi Giuseppe è nipote di Simone Capizzi, in quanto figlio del fratello Paolo Capizzi, scarcerato per fine pena nel 2007, dopo aver scontato una condanna per associazione di tipo mafioso. Simone Capizzi ed i suoi figli Mario Giuseppe, classe 1966, e Carmelo sono tutti detenuti per associazione di tipo mafioso. In particolare Mario Capizzi sta scontando una sentenza definitiva all'ergastolo anche per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia di Altofonte Di Matteo Mario Santo, sequestrato in un maneggio di Villa Abate nel novembre del 1993, fatto uccidere il 10 gennaio del 1996 da Giovanni Brusca. Giuseppe Capizzi è stato colpito insieme ad altre 24 persone da un provvedimento di fermo dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo nell'ambito dell'indagine denominata Scacco Matto. Destinatari dei provvedimenti anche gli imprenditori Giovanni Marino, 47 anni, e Ferdinando Bonanno, deceduto a marzo all'età di 73 anni. In particolare Bonanno era accusato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto quale referente dell'Eurospin Sicilia SPA, impresa con sede a Catania operante nel settore della grande distribuzione alimentare, avrebbe consapevolmente posto in essere condotte funzionali alla realizzazione degli interessi e delle attività di Cosa Nostra, cercando e ottenendo un preventivo contatto con il vertice mafioso della provincia di Agrigento, con persone vicine all'allora latitante di Campobello di Licata. Giuseppe Falsone, capo di Cosa Nostra della provincia di Agrigento, al fine di consentire all'Eurospin Sicilia una penetrazione commerciale nell'Agrigentino, con l'apertura di nuovi punti vendita. Ferdinando Bonanno si sarebbe rivolto anche al fratello del noto esponente della famiglia mafiosa di Catania, Vincenzo Aiello, e tramite lui a Bugea Giancarlo, elemento della famiglia mafiosa di Canicattì, grazie al quale era riuscito a far pervenire le proposte della società Eurospin Sicilia, al vertice mafioso della provincia di Agrigento. Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che Bonanno Ferdinando, inserito nel lucroso settore dell'imprenditoria mafiosa agrigentina, grazie al legame esistente con i principali esponenti della mafia locale, abbia incrementato il patrimonio aziendale. Tra i beni sottratti, un'impresa individuale con sede a Campobello di Licata, destinata alla coltivazione di cereali e allevamento di animali, dove sono stati sequestrati 347 capi, tra cui bovini, suini, ovini e caprini, 13 fabbricati e un terreno agricolo, siti nel comune di Campobello di Licata, quote sociali dell'Alae SSRL, lavori edili e stradali, un'autovettura, un'impresa individuale con sede a Ribera, avente per oggetto l'attività di colture miste, olivicole e frutticole e due terreni siti in provincia di Agrigento, uno a Ribera e l'altro a Villa Franca Sicula, nonché il saldo attivo di un conto corrente acceso presso un istituto di credito di Ribera, partecipazioni azionari corrispondenti al 6% del capitale sociale del Bonanno Ferdinando nella società Eurospin Sicilia S.P.A., operante nel settore della grande distribuzione alimentare con sede a Catania e punti vendita nelle province della Sicilia. Quote societarie dei figli di Bonanno in una società con sede a Paternò, con oggetto sociale, l'attività di commercio e l'ingrosso al dettaglio di prodotti alimentari, una ditta individuale riconducibile alla moglie di Bonanno, sempre con sede a Paternò e oggetto sociale, l'attività di commercio di casalinghi, cristallerie e vasellame e il saldo attivo di 27 rapporti bancari intestati al defunto Bonanno e ai componenti del nucleo familiare. Il valore dei beni è stato complessivamente stimato in 6 milioni e 500 mila euro. La direzione investigativa antimafia di Catania, diretta dal dottor Renato Panvino, ha sequestrato una società operante nella distribuzione e nel noleggio di apparecchi elettronici da gioco, videopoker riconducibile agli Uzzo Scorpo Gaetano di anni 49, già condannato per mafia. Le operazioni di sequestro coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Catania, diretta dal procuratore capo dottor Giovanni Salvi, fanno seguito ad articolate e complesse indagini condotte dalla DIA che hanno portato alla luce gli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa denominata Clan Trigila, operante nel siracusano ed espressione del più vasto cartello criminale, Aparo Nardo Trigila, nella gestione e nella distribuzione dei cosiddetti videopoker. Già nel 2011, con l'operazione denominata Nemesi, che ha disarticolato il clan mafioso Trigila con oltre 60 arresti, gli accertamenti del centro operativo DIA di Catania avevano consentito di far emergere le dinamiche operative poste in essere dalla consorteria mafiosa, che faceva riferimento per i propri fini a Luizio Scorpo, già titolare di due società, la Betting Game e la Media Game, le quali si occupavano del noleggio dei videopoker e che nel novembre scorso sono state confiscate nell'ambito di una misura di prevenzione patrimoniale. Più in dettaglio, Luigi Scorpo Gaetano aveva fornito un contributo alla gestione dell'attività imprenditoriale consistente nell'imposizione agli esercenti commerciali della zona sud della provincia di Siracusa del noleggio dei propri apparecchi elettronici, nonché nella messa a disposizione delle proprie imprese, per permettere al clan Trigila di investire le proprie illecite ricchezze nell'acquisto di apparecchi da gioco e nella devoluzione al medesimo sodalizio di una cospicua parte dei guadagni. L'impianto accusatorio aveva trovato piena conferma con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Siracusa che nel 2012 ha condannato Luigi Scorpo Gaetano per concorso esterno in associazione mafiosa alla pena di 7 anni di reclusione. Le successive acquisizioni investigative hanno evidenziato ulteriori elementi circa le ipotesi delittuose contestate dalla procura di Catania nei confronti di Luigi Scorpo Gaetano nella veste di gestore occulto della società Azienda Italia di Spinalfio e C, società in accomandita semplice, con sede in Piedimonte e Tneo a Catania, che oggi la D ha sequestrato. Infatti sarebbe stato accertato che Luigi Scorpo Gaetano, dopo il sequestro della betting game e della media game, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla contiguità mafiosa con il clan del Siracusano, avrebbe imposto agli imprenditori, presso i cui esercizi commerciali erano installate le apparecchiature elettroniche delle predette due società, di richiedere all'amministratore giudiziario il ritiro dei videopoker, sostituendoli con quelli forniti dall'Azienda Italia, che non era ancora stata sottoposta da alcun vincolo ablativo. Posti sotto sequestro, 40 videopoker allocati in vari esercizi commerciali, ubicati in diverse città della provincia di Catania, Siracusa e Ragusa. Il patrimonio sequestrato ammonta circa 500 mila euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito dei servizi volti alla repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale, rinforzati negli ultimi giorni in concomitanza con l'intensificazione dei flussi turistici verso il litorale cittadino, hanno concluso un'altra operazione con il sequestro di oltre 3.200 articoli contraffatti rinvenuti in un deposito commerciale di Catania e la segnalazione all'autorità giudiziaria di un cittadino extracomunitario di origine cinese. L'attività investigativa, già in corso da diversi giorni, era stata incentrata sull'individuazione dei centri di approvvigionamento utilizzati prevalentemente da cittadini extracomunitari per l'acquisto della merce contraffatta oggetto di rivendita lungo il litorale Tneo. I servizi di osservazione hanno così consentito di rilevare un consistente flusso di venditori ambulanti verso un deposito situato nel centro cittadino. Le indagini sviluppate dai finanzieri del gruppo di Catania in particolare hanno consentito di individuare in via Giordano Bruno del capoluogo Tneo, a ridosso di Corso Sicilia, un deposito clandestino di occhiali da sole e cappellini sportivi, gestito da un cittadino orientale all'interno del quale sono stati rinvenuti migliaia di articoli contraffatti delle migliori marche nazionali ed estere, quali Versace, Gucci, Prada, Dolce Gabbana, Chanel, Ray-Ban. Tutti i prodotti sequestrati, prevalentemente destinati al mercato del falso sulle spiagge della playa, erano ad ogni modo perfettamente fedeli a quelli originali e di pregiata fattura. Il responsabile, un imprenditore cinese di 43 anni, è stato segnalato alla procura catanese. L'operazione assume maggiore rilevanza perché colpisce il fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione a monte della filiera del falso, soprattutto in quanto recide uno dei canali di approvvigionamento dei venditori abusivi che nel periodo essivo si riversano sui lidi catanesi e propongono ai bagnanti gli articoli più disparati. Una vera e propria fiera del falso è già oggetto di frequenti interventi da parte delle fiamme gialle catanesi. Su tale fronte le attività investigative continueranno incessantemente per stroncare alla fonte un fenomeno in crescente aumento. È particolarmente ancora più evidente nel periodo estivo per i tanti venditori abusivi che si riversano sui lidi. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato in anfraganza il 42enne catanese Francesco Tasco per tentata rapina impropria. Ieri intorno alle 12 l'uomo è entrato alla rinascente di Catania dirigendosi nel reparto Pelletteria prelevando da un espositore una borsa in pelle di Armani Jeans. Abbassandosi dietro un bancone ha reciso il dispositivo antitaccheggio della borsa per infilarla in una busta di plastica. Queste operazioni per sua sventura sono state notate dal direttore dell'esercizio commerciale che posizionandosi all'uscita è riuscito a fermare il ladro. Questi, vistosi scoperto, ha tentato una reazione spingendo più volte il preposto e l'addetto alla sicurezza, nel frattempo sopraggiunto a dar manforte al proprio direttore. Alcuni presenti, accortisi di quanto stava accadendo, sono usciti in strada e hanno chiesto aiuto a una pattuglia in moto dei carabinieri della squadra Lupi che in quel momento stava transitando in Viettennea. I militari immediatamente sono entrati dentro i locali e hanno bloccato e arrestato il malvivente. Dalle testimonianze acquisite dal direttore e dagli addetti alla sicurezza sembra che l'uomo in più occasioni aveva eluso il sistema di sicurezza rubando altre borse di marche prestigiose, come documentato da alcune immagini estrepolate dal sistema di videosorveglianza installato. La borsa, del valore commerciale di circa 200 euro, è stata restituita al direttore della Rinoscente, mentre l'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima. I militari del nucleo carabinieri spettorato del lavoro di Catania, insieme ai colleghi del NAS nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno del lavoro nero presso case di riposo e comunità alloggio per anziani, d'intesa con il dirigente della direzione territoriale del lavoro di Catania, il dottor Fausto Piazza, hanno sottoposto a controllo una comunità alloggio dove erano ospitati 11 anziani su 9 autorizzati dal comune di Catania e hanno rilevato complessivamente la presenza di 5 lavoratori privi di alcuna tutela assicurativa e previdenziale, ovvero completamente in nero. Avendo riscontrato una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% della forza lavoro presente, i militari hanno intimato la sospensione dell'attività imbrinditoriale alla ditta, che dovrà ora regolarizzare la posizione delle maestranze trovate, come previsto dal testo unico 81 del 2008. I lavoratori in nero trovati sono stati in tutto 5 e all'interno della struttura, al momento del controllo non era presente alcun soggetto abilitato a svolgere le mansioni di assistente tutelare. La titolare della comunità ha aumentato arbitrariamente la ricettività massima della comunità, portando da 9 a 12 posti letto per gli alloggiati. Sul posto è anche intervenuto il personale dell'ASPE dei servizi sociali del Comune di Catania, i quali hanno preceduto per quanto di rispettiva competenza ai fini sia autorizzativi sia di accreditamento. La titolare avrà adesso l'obbligo di contattare i familiari degli alloggiati per il loro trasferimento in altre strutture idonee. A conclusione dell'attività, la titolare è stata deferita all'autorità giudiziaria e sono state contestate sanzioni amministrative e ammende per 60.000 euro e recuperati i contributi assistenziali e assicurativi per circa 13.000 euro per la presenza di lavoratori in nero. Sono 20 più o meno le famiglie che tra qualche giorno dovranno lasciare lo stabile di via Furneri numero 31 e non sanno dove andare. Questo perché il Comune il 28 di luglio ha mandato una notifica proprio di sfratto alle persone che abitano naturalmente in questo stabile. Dal 1963, mi diceva lei, ci sono persone che vivono qua all'interno? Già abitavano in questo palazzo da 63. Comunque, anche mio padre, Giuseppe, abitava già da 63 in questo palazzo. Che costruivano il palazzo? E questo sono sicuro. Io vi posso dire una cosa. Come mai questa cosa arriva a casa così a molte subitane senza che dicono che sono un avviso, bussare la porta? Guardi, signore, sta succedendo questo. Mi sembra una cosa assurda. Nessuno ci riceve. Il Sindaco non ci riceve. Il Comune non ci dicono, non sanno niente. Sono solo che ci danno uno spratto e non sappiamo dove andare. La Senza Sociale dice cinque giorni. Ma cinque giorni è qualcosa. I mobili le buttano a terra, le buttano, non abbiamo capito niente. Non c'è una persona. Un avvocato non si mette, il Tribunale non dà concedente. Il palazzo, dentro le case, sia buono. Un curatore che si mette sulla sua notifica e non sa affrontare le persone di ingulini che stanno qua dentro, già per me non è una persona che già, come si dice, si sta ascurando dalle sue cose. Ora, vogliamo cercare di capire chi ci deve dare una mano, almeno per darci un tetto per i nostri figli. Anche perché non vi hanno dato un'alternativa, un altro alloggio. Nessuno ha dato la porta. Nessuno ha messo un cartellone sul portone. Nessuno, i sidofri dicono che non funzionano, i sidofri funzionano, ci sono alcuni che non funzionano e alcuni che funzionano. Ma non è questo il problema. Le persone sono entrate al portone, sentono di nascosto e fanno tutte le cose di nascosto. Noi ne abbiamo corpa. Però non è giusto che ci buttano fuori, perché spazzatura paghiamo, luce paghiamo, acqua la paghiamo, tutto abbiamo. Abbiamo fatto un ricorso anche al Tribunale per l'acqua, che abbiamo messo le firme su catastro, con codice fiscale. Perciò c'è tutto in regola. Al momento di pagare esistete, quando invece peraltro non esistete? Tutto qua. In effetti non esiste, perché qua è come se non esistiamo. Per come dicono loro, palazzo fantasma, che lo dichiarano anche altre persone, se è un palazzo fantasma come mai c'è acqua, luce, c'è tutte queste cose? Le bollette testimoniano. Comunque cerchiamo di andare a ritroso della situazione. Diciamo che la denuncia parte da alcuni lavori che stanno facendo in via ACI. Sì, perfetto. Sono iniziati circa due anni fa, dove hanno fatto dei lavori di trevellazione che il palazzo doveva risentire dei danni, se comunque era inagibile. Però non ne ha mai risentiti. Ora io dico, come mai ci stanno pensando due anni fa, quando invece già il problema dovevano pensarci prima di mettere in sicurezza il palazzo, dato che per loro è inagibile. Tra l'altro qualche anno fa sono stati fatti anche dei lavori di riprissino dei balatoi da parte del Comune? Sì, circa dieci anni fa, otto anni fa. Hanno tolto i pericoli esterni facendo dei balatoi. Invece dovevano togliere l'ala di sopra e non l'hanno tolta. Il Comune non è venuto a constatare se questi lavori sono stati fatti bene o meno. Non è venuto. Quindi io dico, come mai hanno tolto i pericoli esterni e quelli interni invece neanche li hanno guardati? Voi pensate che ci sia qualcosa al di sotto, cioè che la denuncia sia partita per un secondo fine? Sì, perfetto, questo è. Qua c'è qualcosa che non quadra. Parliamoci chiaro, il Comune si deve dare delle spiegazioni, dire che c'è questo e com'è finita e cosa stiamo andando incontro. Dacci un appartamento, siamo 20 famiglie, le case ci sono perché l'abbiamo saputo, ma daccioli, almeno noi usciamo tranquilli. Però dai una stabile ai detti ai nostri figli. Avete chiesto di parlare con Bianco, ma nulla di fatto? Nulla. Con Bianco, col Vice Sindaco, nessuno ci ha ascoltati. Quindi noi stiamo aspettando ancora la chiamata del signore Idonia che non ha chiamato. Non sappiamo a chi rivolgerci perché giustamente siamo da soli. Poi comunque sempre nel mese di agosto è difficile parlare con qualcuno. Non si ci mette nessun legale perché comunque col Comune, ovviamente, è difficile. Però comunque dal Comune questo palazzo vive da 60 anni. Oggi per lui già stanno cominciando a vivere. Quando invece 60 anni fa era morto questo palazzo. Ti sentite minacciati? Sì, soprattutto dai servizi sociali. Perché almeno a me, con lui testimone, siamo stati negli uffici dove ci hanno detto che intanto ci tolgono i bambini che li tutelano. Dopodiché se vogliamo opporre resistenza lo possiamo fare liberamente. Sarà pure fatiscente dall'esterno, ma entrando in uno degli appartamenti si notano i sacrifici di ognuno di loro che provano a renderlo normale, con tanto di ingresso, cucina e servizi. Com'è possibile rimanere immobile davanti a una situazione simile? Forse qualcuno dimentica una delle tante citazioni di Papa Francesco. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Collettivo Experia, Rifondazione Comunista e Rete Antirazzista Catanese hanno organizzato una raccolta di farmaci che è andata anche oltre le previsioni. Sono stati infatti raccolti circa 200 kg di farmaci destinate in Palestina. Sì, 200 kg di farmaci da mandare in Palestina, una grandissima solidarietà che neanche noi ci aspettavamo. Facendo un tantam, utilizzando soprattutto la rete, la solidarietà è stata incredibile. La solidarietà al popolo palestinese, alle condizioni del popolo palestinese e alla resistenza che il popolo palestinese sta facendo rispetto a questo attacco è andata oltre le nostre aspettative e questo dimostra che quando c'è un popolo che soffre una guerra, quando c'è un popolo che viene attaccato, quando per noi questa è una nostra posizione, cioè si sta attuando un genocidio e allora la solidarietà che sembra tante volte che sia scomparsa dalle nostre parti invece esce tutta allo scoperto e ha fatto questa grandissima opera per cui arriveranno questi farmaci che sono soprattutto antiemorragici, farmaci che appunto servono soprattutto in una situazione di guerra, di attacco come c'è in questo momento a Gaza. L'iniziativa è partita da Catania e ha avuto un'adesione eccezionale allargandosi in sole due settimane a tanti comuni della provincia e oltre. Cacia invita comunque a tenere alta l'attenzione su Gaza con altre raccolte. La situazione di Gaza non è migliorata per niente, cioè anche se in questo momento esiste una tregua che durerà circa tre giorni, 72 ore, gli israeliani non accettano nessun tipo di condizione per cui il popolo palestinese ha detto una cosa per noi giustissima che è quella che non vogliono tornare alle condizioni di prima, cioè con mille, quasi duemila morti alle spalle non si può tornare ad essere Gaza una prigione a cielo aperto, cioè senza nessuna possibilità di muoversi perché i valichi sono controllati dagli israeliani e dagli egiziani senza la possibilità di pescare perché ricordiamo il nostro connazionale Vittorio Arrigoni che è morto lì proprio perché portava i pescatori di Gaza a pescare evitando che fossero sparati dalle cannoniere israeliane e allora vogliono che i palestinesi vogliono che questo è quello che c'è stato, almeno serva a migliorare le loro condizioni lì, per cui purtroppo siccome vediamo che invece c'è una cecità da parte del governo israeliano rispetto a questo, temiamo che la situazione continui per cui ci sarà bisogno di altre iniziative di tipo umanitario ma anche di sostegno appunto alla resistenza che questo popolo sta facendo nei confronti di questa aggressione. Inutili le polemiche sul ponte Gioieni, l'abbattimento era necessario, replica così l'assessora alla mobilità Rosario D'Agata ai consiglieri di opposizione. Comprendiamo le polemiche ma francamente quelle sul ponte stanno diventando inutilmente ripetitive. Il traffico della zona è sostanzialmente simile a quello che si registrava nel periodo antecedente, l'abbattimento. Di certo nessun catanese ricordava il ponte come una zona priva di ingorghi. Peraltro la conferenza stampa dei consiglieri di opposizione si è svolta durante degli imponenti lavori dell'Enel alla circonvolazione effettuati a ridosso di Ferragosto proprio per evitare disagi in autunno. Siamo stati costretti ad abbattere il ponte per problemi di staticità chiaramente riscontrati. Abbiamo effettuato lo smantellamento in pochissimi giorni lavorando anche lo scorso Ferragosto, mentre il consolidamento avrebbe bloccato interamente la circonvolazione per mesi con conseguenze inimmaginabili per il traffico e con un esborso non finanziato dalla protezione civile di circa 2 milioni e 300 mila euro. Questa era la scelta della precedente amministrazione di centrodestra ma non si capisce con quali soldi sarebbe stata finanziata. Noi abbiamo invece dato prevalenza alla prevenzione sismica e la sicurezza e dunque demolire il cavalcavie è costruire la rotatoria e torna indietro nell'ambito del progetto originario finanziato dalla protezione civile. Quel progetto originario prevedeva anche la realizzazione del sottopasso tra via Caronda e via Grassi. Chi oggi critica forse non sa che i fondi necessari per la sua realizzazione proprio durante le precedenti amministrazioni di centrodestra sono stati utilizzati per altri lavori. Stiamo quindi lavorando oggi per ottenere un nuovo finanziamento. Abbiamo dovuto affrontare numerosi problemi come una carente mappatura dei sottoservizi e un ricalcolo delle spese effettuate negli anni scorsi per tutto il progetto circonvolazione che hanno rallentato alcuni lavori. Oggi però siamo a buon punto. Siamo consapevoli delle difficoltà e monitoriamo con frequenza e scrupolo il traffico grazie ai vigili urbani e tecnici dell'UTU. I lavori di sistemazione del grande frontale sotto il parco Gioeni sono già in fase di progettazione e a settembre inizierà la realizzazione della bratella di via Petraro che contribuirà ad alleggerire il traffico sulla corsia a valle della circonvolazione, l'unica a subire ad oggi rallentamenti rispetto alla situazione preesistente. Insomma, i disagi temporani, conclude Dagata, sono normali in una città che deve rilanciarsi, soprattutto quelli dovuti ai lavori pubblici necessari. Affrontarli e eliminandoli con la massima attenzione da parte dell'amministrazione è un nostro preciso impegno. Affrontarli con la giusta maturità è un dovere di tutti. In piena estate massima attenzione alla nostra salute. In questa stagione il livello d'attenzione deve essere altissimo. Caldo e umidità mettono a dura prova il nostro organismo. Ecco i suggerimenti del consigliere dell'Ordine dei Medici di Catania, Gregorio Lo Giudice, per ridurre al minimo i rischi legati al caldo estivo. La temperatura ideale da mantenere a casa è di 5-6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Se possibile bisogna utilizzare un ventilatore o un climatizzatore in alternativa. È necessario aereggiare l'ambiente dove si soggiorna. Quando si esce è utile soprattutto per i bambini e per gli anziani coprirsi il capo e proteggere gli occhi con occhiali da sole. Per l'estate non bisogna dimenticare di proteggere il corpo dai raggi ultravioletti e dalle scottature che sono dannose e potrebbero predisporre ad alcuni tumori della pelle e quindi è opportuno non dimenticare mai la crema protettiva. Bere acqua in abbondanza anche quando non si ha sete perché l'intensità di questo segnale di allarme naturale dell'organismo diminuisce negli anziani. Bisogna bere almeno due litri d'acqua al giorno, anche di più se si suda tanto. In estate gli alcolici, il caffè o le bevande gassate andrebbero ridotte se non eliminate dalla dieta perché hanno effetto diuretico e quindi fanno perdere liquidi. Sono consigliati passi leggeri e frequenti, con poco olio e poco sale, mangiare molta frutta o verdura che sono ricche di acqua e di fibre, vitamine e sali naturali, gelati e granite, preferibilmente al gusto di frutta. Se si avverte senso di spossatezza, debolezza, mal di testa, temperatura corporea elevata, sete intense, è necessario di stendersi immediatamente in un luogo fresco. È inoltre consigliato che alla persona colpita dal malore si sollevino le gambe in alto, la si idrata con dell'acqua e le si bagna il viso per abbassare la temperatura corporea. È opportuno non uscire nelle ore più calde della giornata e non praticare attività fisica. Indicativamente tra le ore 12 e le ore 18 è consigliato indossare abiti di colore chiaro e non aderenti, di cotone, lino o fibre naturali. Usare un lenzuolo chiaro di cotone perché fa da traspirante e aiuta il passaggio dell'aria al letto. Si consiglia inoltre una doccia fresca o tiepida prima di andare a dormire, concilia il sonno perché abbassa rapidamente la temperatura corporea e libera la pelle dal sudore. Accendete soltanto le luci necessarie, per esempio quelle per leggere, la lettura prima di addormentarsi è una bella distrazione che distoglie il pensiero dal caldo.